Nuova edizione di Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. Apriamo parlando di politica, c'era grande attesa per la conferenza stampa di Nello Musumeci organizzata dallo stesso presidente della regione siciliana per fare chiarezza sulle sue recenti esternazioni. Ebbene, dopo i ballottaggi, ha detto, si riuniranno a Roma i leader del centrodestra. Ho detto alla mia leader, Giorgia Meloni, che ringrazio per la tenacia, la perseveranza e la passione con cui ha difeso la mia ricandidatura, ma se al tavolo nazionale il mio nome dovesse risultare diviso, sono pronto a fare un passo di lato. Dunque, Musumeci conferma quanto, dichiarato brevemente con una breve battuta nei giorni scorsi, è pronto a ritirare la sua candidatura dalle prossime elezioni regionali. Ma andiamola a sentire le parole dell'attuale governatore siciliano. Non mi sono mai arreso nella mia vita pubblica e privata, tranne una volta, quando il padre eterno ha voluto chiamarsi mio figlio. Non so cosa sia la parola resa. Non è una resa la mia. E neanche la voglia di mollare. Perché io non mi dimetto, ho un impegno col popolo siciliano, che ho assunto quando mi ha eletto, cinque anni fa, e fino all'ultimo giorno servirò la mia regione e il popolo siciliano nei suoi legittimi interessi, rimanendo con la schiena dritta, con la stessa integrità morale e con lo stesso entusiasmo del primo giorno. Andrò in giro per la Sicilia in lungo e in largo a programmare, ad aprire cantieri e a inaugurare nuove opere. non è un'arresa, no amici, non sto mollando. La mia è una scelta di responsabilità. Lo so che la responsabilità oggi è un arnese fuori uso, ma io continuo ancora a tenerlo e a conservarlo, fra gli attrezzi più importanti. La mia è una scelta di responsabilità per non indebolire il centro-destra. La mia è una scelta di responsabilità per consentire al centro-destra di tornare a vincere e a continuare lungo la strada del cambiamento che il mio Governo, con tutti gli assessori che voglio ringraziare di vero cuore, che il mio Governo ha tracciato la nuova strada del cambiamento. Anche se nell'ultimo anno ho dovuto subire indicibili e ignobili attacchi dal fuoco amico, preoccupato più a delegittimare il Presidente della Regione che ad attaccare le opposizioni. Ed ora la cronaca con una prima notizia da Noto. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di confisca di polizze, beni mobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 450 mila euro nei confronti di una coppia appartenente alla comunità nomade dei cosiddetti camminanti di Noto. Nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Siracusa è emersa una sproporzione tra la situazione reddituale dei due e i beni e le disponibilità finanziarie a cui gli stessi avevano accesso direttamente o attraverso interposta persona. Dagli approfondimenti investigativi dei militari della tenenza di Noto è emerso, secondo l'accusa, che i coniugi, con precedenti per truffa, istorsione e furto, vivevano abitualmente con i proventi delle attività delittuose, mantenendo un tenore di vita al di sopra delle proprie capacità reddituali. Tra i beni confiscati anche polizze assicurative di un valore superiore a 100 mila euro. Ed ora torniamo a occuparci del caso di Acireale, il duplice omicidio di Acireale, perché c'è una svolta importante nelle indagini. È un agricoltore, Giuseppe Battiato, l'uomo fermato dai carabinieri della compagnia di Acireale nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Catania sul duplice omicidio scoperto ieri in un fondo agricolo di Contrada Pennisi. L'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità motivando il gesto con l'esasperazione per il continuo ripetersi dei furti di limoni nel suo agrumeto. Durante un appostamento per cogliere in flagrante i ladri, l'uomo, con una dinamica ancora da chiarire avrebbe esploso dei colpi di pistola contro Vito Cunsolo, 29 anni, e Virgilio Cunsolo Terrano, di 30 anni, uccidendoli sul posto del loro ritrovamento. Durante la notte i carabinieri hanno sentito familiari, amici e conoscenti delle due vittime per ricostruire la loro personalità e le loro frequentazioni. A cercare i due giovani erano stati alcuni familiari, visto che il giorno prima non erano rientrati a casa. Ieri ci sono stati momenti di tensione dopo il ritrovamento dei due cadaveri. Ed ora invece a Lentini, dove i carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso un pregiudicato lentinese di 35 anni, sorvegliato speciale, che in trasferta nel limitrofo comune di Carlentini stava in compagnia del figlio tentando un furto all'interno di due garage condominali, dopo aver rafforzato le serrature delle saracinesche con un trapano. Il 35enne, al quale è stato sospeso il reddito di cittadinanza, è stato anche deferito per la violazione della sorveglianza speciale, poiché è trovato in un comune diverso da quello di residenza. E da Lentini ci spostiamo virtualmente a Mazzara del Vallo, continuiamo a parlare di cronaca, i carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo hanno deferito in stato di libertà sei persone per varie ipotesi di reato. In particolare a Vita, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 65enne il quale avrebbe effettuato un allacciamento abusivo alla rete pubblica di fornitura di gas metano a favore della propria abitazione previa violazione dei sigilli, con un danno economico ancora in fase di quantificazione. A conclusione della verifica, grazie al supporto di personale tecnico specializzato della società erogatrice di gas metano, è stato rimosso l'allaccio abusivo con il contestuale ripristino dei sigilli e della sicurezza di tutto l'impianto. Ed ora invece una notizia da Enna dove il questore ha emesso un decreto di sospensione per la durata di 15 giorni e di contestuale chiusura di un esercizio pubblico sito in un comune della provincia. Il decreto in argomento scaturisce dall'attività di indagine svolta a seguito di diversi episodi di violenza avvenuti all'interno del locale, a seguito dei quali alcune persone avevano riportato delle lesioni, fatti avvenuti anche nei primi mesi dell'anno in corso. In uno dei suddetti episodi, a seguito di una lite scaturita all'interno del locale, uno dei due soggetti coinvolti è stato ripetutamente colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Ed ora invece a Palermo dove la polizia di Stato ha arrestato un 46enne sorpreso a rubare batterie da una cabina dell'Enel. Denunciato anche il ricettatore, un uomo di 62 anni, il quale ha incontrato il ladro subito dopo il furto nella quartiere Sperone. Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno trovato nell'officina dello Sperone, risultata tra l'altro abusiva, altre otto batterie dell'Enel e due bici elettriche. Per il 46enne è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ed ora ci occupiamo dell'omicidio di Graziella Campagna. Molti di voi sicuramente ricorderanno questa vicenda, vicenda avvenuta comunque tanti anni fa, il 12 dicembre del 1985. Ebbene, Giovanni Sutera, il sessantenne di origine siciliana detenuto attualmente a Sollicciano, dove sta scontando l'ergastolo proprio per l'omicidio di mafia dell'allora 17enne Graziella Campagna, adesso uscirà dal carcere. La ragazza all'epoca venne uccisa poiché, lavorando in una lavanderia di Villa Franca Tirrena a Messina, aveva scoperto da un'agenda smarrita tra gli abiti di un cliente l'identità di Gerlando Alberti, boss di mafia, di cui Sutera, che si è sempre dichiarato innocente per questa vicenda, sarebbe stato il braccio destro. Dunque, dicevamo, Sutera uscirà dal carcere, lo potrà fare per andare a svolgere del volontariato presso un'associazione di Firenze che fornisce assistenza agli anziani, poi la sera dovrà tornare in cella. Questo Stato, facendo così, spinge le persone a farsi giustizia da sé, non a rivolgersi alla legge. A parlare è Piero Campagna, parole chiaramente di comprensibile amarezza. Se le persone, aggiunto, si rendono conto che non è possibile ottenere giustizia, si sentono impotenti. Non mi sento rappresentato da questo Stato. Ed ora a Palermo per continuare a parlare dei disagi e dei disservizi provocati dall'attacco hacker al sistema informatico del Comune avvenuto nei giorni scorsi. Ci sono ancora degli uffici paralizzati. A Palermo settori della Polizia Municipale che sono parzialmente bloccati dopo l'attacco che ha messo fuori uso i computer dell'amministrazione comunale. E' il caso, ad esempio, della Polizia Giudiziaria che aveva un canale diretto per comunicare le notizie di reato in procura e negli ultimi giorni sono state protocollate quelle che riguardano provvedimenti urgenti da convalidare in tempi rapidi. Inoltre ci sono ancora numerose postazioni degli uffici anagrafe e della ragioneria che sono fuori uso. Non tutti i computer, infatti, sono stati attivati e non tutti potranno essere ripristinati. Questo chiaramente comporta tempi ancora più lunghi per il rilascio di documenti e carte d'identità con evidenti disagi e disservizi per la cittadinanza. In questi giorni, tra l'altro, ci è stata anche la difficoltà di poter comunicare la data di inizio lavori per la ristrutturazione degli appartamenti. Insomma, sono passati, come detto, diversi giorni da questo attacco hacker al sistema informatico del Comune di Palermo, ma come vedete continuano ad esserci davvero tantissimi disservizi. Ed ora invece la notizia da Carini. Restiamo dunque sempre nella Palermitano. Squadre esperte nel soccorso nucleare, biologico, chimico e radiologico dei vigili del fuoco sono intervenute per la fuoriuscita di GPL da un serbatoio fuoriterra posto all'esterno di una villetta a Carini. Durante le operazioni di soccorso è stato effettuato lo svuotamento controllato del serbatoio bruciando in torcia i residui di GPL per poi passare successivamente alla bonifica con il riempimento dello stesso con acqua. E le immagini che state vedendo si riferiscono proprio a questo intervento dei vigili del fuoco all'esterno di questa villetta di Carini. Ed ora invece parliamo di Covid, andiamo a vedere il consueto bollettino settimanale della regione siciliana, bollettino che in questo caso si riferisce ai giorni dal 13 al 19 giugno, ebbene si evidenzia un aumento dei nuovi casi di Covid. Nella settimana dal 13 al 19 giugno si assiste a un ulteriore incremento delle nuove infezioni da Covid in Sicilia in linea con la tendenza nel territorio nazionale. L'incidenza di nuovi positivi è pari al più 29,07%. Lo dice il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della regione siciliana. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo, Catania e Siracusa. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 45 e i 59 anni e tra i 60 e i 69 anni. Anche le nuove ospedalizzazioni aumentano lievemente. Per quanto riguarda la campagna vaccinale i dati fanno riferimento alla settimana dal 15 al 21 giugno. Nel target 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,47%. Risultano aver completato il ciclo primario 72.846 ai bambini, pari al 23,63%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,57%, mentre ha completato il ciclo primario l'89,29% del target regionale. I vaccinati con terza dose sono 2.737.260, pari alla 72,83% degli aventi diritti. Sono 1.021.374 i cittadini che possono effettuare la somministrazione booster ma non l'hanno ancora fatta. Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose che spetta ai soggetti che hanno ricevuto la terza dose da oltre 120 giorni senza intercorsa infezione da covid. Sono state effettuate complessivamente 31.300 somministrazioni, di cui 22.659 ad over 80. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi sempre su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio Notizia. A dopo.